Multe a Rafica agli ambulanti a Corsi in Città per la manifestazione Benvenuta Primavera. È accaduto in via Grimani, appositamente riservata proprio ai commercianti, che hanno pagato anche 1000 euro per poter essere a Rovigo. Alcuni di loro ieri sera erano increduli. A fare scattare le multe, secondo le prime ricostruzioni, gli accertatori della sosta. Probabile che alla base di tutto ci sia un equivoco. La via sarebbe stata riservata sì agli ambulanti, ma senza che le strisce blu perdessero la loro efficacia. In altri termini avrebbero dovuto pagare il parcometro, come tutti. Negli anni passati pare però che la polizia locale non avesse contestato il mancato pagamento. Sarebbe stata diversa quindi la valutazione degli accertatori. È stato ovviamente investito da messaggi e richieste di intervento Giancarlo Zanella, vicepresidente di Cofipo, che ha coordinato gli ambulanti. È chiaro che sono venuti da me a chiedere, anche perché abbiamo chiesto all'amministrazione di riservare quella via che tradizionalmente è lasciata ai furgoni durante le fiere, anche per gli attacchi dei banchi frigo. Zanella ha aggiunto I vigili urbani sono arrivati subito e hanno verificato che le multe erano state elevate dagli accertatori della sosta. Domani faranno le verifiche e confidiamo che le annullino, anche perché gli ambulanti erano inviperiti. Non solo vengono a lavorare, prendono freddo e devono anche pagare 42 euro di multa. Questo penalizza la manifestazione, non è il massimo. La prossima volta andremo in Prato della Valle.